Il nostro pubblico del festival è con voi Alberto Tesani e Laura Sabinato. Grazie, salsa alla cadenza. La clave, mi gente, la clave llama la salsa. Salsero si llaman, yo vengo. 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 Yo sé que te gusta el pollo y cantando. Salsero si llaman, yo vengo. Salsero si llaman, yo vengo. Ave, tengo. Ave, tengo. Ave, tengo. motiv 2 Grazie a tutti. 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 Barbara, anche lei con noi da un anno, la figione è l'ultima. E Franco, grazie a tutti. Alberto, un'ultima cosa, ricordiamo che inizia i corsi il prossimo settembre, se vuoi dare qualche indicazione in più per chi volesse iscriversi, perché la vostra è veramente una bella scuola che merita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.